Questa sarebbe la sera più diretta ma non c'è posto per parcheggiare però ci sono delle dolcissime pecorelle il sentiero giusto è parallelo a questo ma più sulla destra sarebbe percorribile col furgone ma non c'è parcheggio comunque non cambia molto perché il sentiero è più in là e la distanza è la stessa ed è accettabile per arrivare al centro bottivo del gioco saranno a 5 o 600 metri forse